salve a tutte e a tutti benvenuti a questa nuova pausa dello spirito per la quale ho pensato di intrattenervi un poco discutendo con voi di di quello che possiamo definire un autentico capolavoro della stereografia internazionale di fine novecento françois fiore il passato di un'illusione l'idea comunista nel ventesimo secolo questa edizione come in mano è del 1997 oscar saggi mondadori segue di due anni la prima traduzione italiana sempre per mondadori nel 95 che è contemporanea alla prima edizione originale francese le passe di un'illusione appunto 95 bene da allora 1997 sostanzialmente se non vado errato forse una una ristampa ma non si sono poi avute ulteriori ristampe nel corso del ormai del primo ventennio del ventunesimo secolo le nuove edizioni da parte anche magari di altre case editrici per cui questa è anche l'occasione per invitare se non la stessa mondadori chi come editore fosse interessato a rilevare i diritti d'autore e a ripubblicare un'opera che molti storici tra cui Renzo De Felice considerò davvero un caposaldo della stereografia di fine novecento un'opera di grande respiro la definì Renzo De Felice vi dedicò anche quello che nel recente volume degli scritti giornalistici compare proprio come l'ultimo scritto primo della morte dello storico reatino un'ampia recensione elogiativa con alcuni distinguo di un di quello che è come dice fiore nel ringraziamenti nel post scritto ma i ringraziamenti è dice malgrado la lunghezza questo lavoro resta un saggio di interpretazioni è un tentativo ambizioso ma direi anche molto ben riuscito di interpretazione non solo dell'idea comunista non solo di un secolo il ventesimo ma direi più ampiamente dell'idea rivoluzionaria nei due secoli che si sono dispiegati a partire da quel primo grande evento scoppiato in francia tra la primavera e l'estate del 1789 e che è stata per molti decenni il primo campo di ricerca e di studio di fiore nel quale fiore poi è salito alla ribalta creando anche polemiche controversie per aver innovato per aver criticato interpretazioni troppo ideologizzate di quell'evento che come francese ma come europeo in generale come occidentale non poteva non interrogarlo per poi l'estensione addirittura mondiale che ha avuto l'ideologia rivoluzionaria il mito della rivoluzione la realtà della rivoluzione che a distanza di poco più di un secolo si riproduce in terra di russia qui dietro alle mie spalle vedete un'altra raccolta di scritti di fiore le due rivoluzioni la rivoluzione francese la rivoluzione bolcevica sono i due grandi ambiti di riflessione perché appunto è la passione rivoluzionaria unita alla passione per l'eguaglianza ciò che soprattutto preme a fiore che è un grande storico in particolar modo uno storico anche di come le idee hanno mosso la storia hanno smosso gli animi innanzitutto di uomini di cultura di intellettuali di uomini d'azione e come questo abbia segnato nel bene nel male tra a lutti e tragedie anche in mani la storia d'europa e del mondo degli ultimi due secoli e scrivendo pubblicando nel 95 dunque scrivendo e terminando questa sua opera nella prima metà degli anni 90 fiore esordisce partendo da una constatazione che è che anche qualcosa di sorprendente su cui ora forse meno ci soffermiamo a distanza di qualche decennio cioè di come quella grande esperimento che fu la rivoluzione bolcevica allo stato la repubblica socialista sovietica in russia sia sostanzialmente implosa e come scrive all'inizio della prefazione si sia dissolta da sola scrive fiore il regime sovietico è uscito di soppiatto dal teatro della storia dove era entrato in modo spettacolare a tal punto si era identificato con il tessuto e l'orizzonte del secolo che questa fine ingloriosa e repentina ha costituito un sorprendente contrasto con la sua clamorosa durata l'universo comunista si è dissolto da solo dunque non possono non sorgere molti interrogativi e questo è già uno dei tanti motivi che consigliano la lettura di questo libro anche gustato lentamente perché è densissimo è ricco di spunti e certamente in questa breve pausa non è possibile esporli tutti qualche punto possiamo però evidenziarlo servendoci anche della recensione che a suo tempo fece scrisse renzo de felice in particolare gli individuava quattro punti individuava il ruolo centrale della prima guerra mondiale dunque la questione del totalitarismo la questione dell'antifascismo e il ruolo delle personalità nella storia vi aggiungerei poi un ulteriore ultimo punto ma procedendo con ordine la questione della prima guerra mondiale la prima guerra mondiale è un è un formidabile catalizzatore trasformatore e detonatore che non è uguali nella storia recente dell'umanità di appunto idee che erano germogliate maturate in particolar modo a cavallo tra otto e novecento e soprattutto riattizza riattiva quell'idea di rivoluzione che abbiamo visto sorgere appunto in francia alla fine del settecento unita a questa grande passione per l'eguaglianza che è esplosa nel corso dell'ottocento e che ha portato avanti gli ideali democratici in particolar modo nella loro versione socialista e comunista dunque viene vista come un evento cesura senza il quale non è possibile pensare ad esempio ai totalitarismi anzitutto ai totalitarismi che cosa produce la prima guerra mondiale oltre a quello che già sappiamo la nazionalizzazione delle masse l'irruzione delle masse nella scena politica il loro assorbimento dentro le strutture dello stato che proprio durante la guerra a causa della guerra si trasforma diventa qualcosa che è rimasto a lungo anche ben oltre la prima guerra mondiale ben oltre il primo dopoguerra perché poi vi è stata una seconda guerra mondiale e da lì anche le implementazioni dal punto di vista di welfare che si danno anche in quei paesi che restano retti a regime democratico pensiamo all'inghilterra oltre a questo c'è la comune origine rivoluzionaria di due fenomeni che sorti prima bolshevismo a ridosso poco dopo il fascismo però sono tali cioè sono diventati tali da incidere nella storia in virtù della prima guerra mondiale nel caso del fascismo è interessante il ruolo che svolge la prima guerra mondiale in quanto non solo in italia ma in tutta europa consente una trasformazione della destra culturale politica da tradizionalmente conservatrice o reazionaria in destra rivoluzionaria un cortocircuito in qualche modo la nazione si abbina all'idea di rivoluzione e rivoluzione non è solo più nella sua versione internazionalistica secondo punto il totalitarismo già questa comune origine di due dei tre totalitarismi fiore è sostanzialmente sulla linea di felice nel ritenere che il fascismo si approssima qualcosa di meno rispetto al modello totalitario di quanto non faccia nazionalsocialismo di quanto non faccia il comunismo sovietico soprattutto lui che in particolar modo specie in questo libro esamina le idee politiche per un minor tratto universalistico che a suo avviso invece avrebbe anche il nazismo che utilizza un concetto senz'altro discriminante discriminatorio quale quello di razza ma tale da poter valicare i confini nazionali come dimostrerebbe peraltro soprattutto sul finire della seconda guerra mondiale l'adesione di popolazioni non tedesche ad esempio come volontarie nelle Waffen SS quindi un fenomeno tale da connotare l'ideologia nazista con un tratto transnazionale che parebbe forse meno forte nel fascismo ma non è tanto questo diciamo l'elemento di maggiore interesse della riflessione di fiore che però trova elementi tali per ribadire una comunque in dubbia validità euristica alla categoria di totalitarismo pur nelle differenze poi delle sue concrete traduzioni storiche empiriche il terzo punto è la questione dell'antifascismo particolarmente interessante perché attraverso la storia dell'idea comunista fiore nota come il comunismo con Stalin si era sostanzialmente infilato in un vicolo cieco è ben noto almeno agli addetti ai lavori di quanto l'antistalinismo fosse fiorito a sinistra ma presso una sinistra rivoluzionaria che aveva sostenuto la prima fase anche della rivoluzione bolshevica ma che di fronte alla piega che Stalin dà alla costruzione edificazione dell'unione sovietica ritiene di denunciare come totalitario il regime staliniano e in generale che stava maturando nel corso degli anni 30 una forte critica antistalinista che veniva contrastata ovviamente dalle sezioni dell'internazionale comunista sparse in Europa con i suoi partiti in Francia in Italia e altrove ma diventa di difficilissima difesa all'indomani dell'agosto del 1939 e del patto Ribbentrop-Molotov tra Germania itleriana e Russia staliniana e fino al giugno del 41 appare di solare evidenza la vicinanza dei pur diversi totalitarismi tedesco e russo hitler tra i molti misfatti tra i molti tragici mani danni infatti alla storia e alle popolazioni ha fatto anche quello ci dice fiore di aver regalato a Stalin una nuova verginità una possibilità di riaccreditarsi a livello internazionale cosa che di fatto avvenne diventando un alleato importante cruciale delle democrazie occidentali erano rimaste in piedi sostanzialmente quella inglese e non toccata se non con il tentativo di aggressione da parte giapponese americana gli Stati Uniti d'America e cosa consente l'operazione barbarossa ovvero l'invasione tedesca della Russia consente a Stalin di sposare la causa antifascista per eccellenza cioè la lotta contro Hitler e se Hitler è il massimo della negazione della democrazia tra il 41 e il 45 il combatterlo consente di mettere in secondo piano il fatto che l'altro grande avversario irriducibile della democrazia dei diritti dell'uomo e del cittadino appunto del 1789 di matrice laico-illuministica francese è il comunismo dunque l'antifascismo comunista prende campo e diventa alquanto rilevante grazie anche al contributo significativo per certi versi decisivo che sul fronte orientale nello specifico dà l'armata rossa dall'unione sovietica con il sacrificio di milioni e milioni di soldati e civili russi. Tutto questo ha dato una seconda vita all'idea comunista che subisce una profonda ferita come è noto a partire dal ventesimo congresso del partito comunista sovietico all'inizio del 1956 poi senz'altro l'invasione appunto dell'ungheria è qualcosa che ulteriormente indebolisce l'idea comunista o comunque la sua capacità attrattiva che lentamente scema nei decenni successivi anche se in qualche modo e anche questo è un aspetto che meriterebbe ulteriore approfondimento Fiore dice che rendendosi più morbida l'idea comunista viene poi anche rielaborata fuori al di là del muro di Berlino al di là del blocco sovietico in occidente con commissioni con altre correnti culturali in effetti poi tutto il successo che ha il vario marxismo degli anni 60-70 del novecento per concludere il quarto punto che già De Felice evidenziava che emerge da questa grande opera e che andava in controtendenza rispetto alle principali correnti storiografiche in Francia e non solo soprattutto in quegli anni 90 è la sottolineatura del ruolo delle personalità nella storia e Fiore fa capire come senza personalità quali Lenin, Stalin, Mussolini, Hitler non si sarebbero avuti quei fenomeni che abbiamo avuto nella loro peraltro tragicità ma questo va a ribadire il carattere contingente e imprevisto della storia il fatto che sono gli uomini che fanno la storia pur non sapendo del tutto la storia che fanno perché anche laddove come nel caso di questi dittatori hanno una loro ideologia una loro visione del mondo intendono indirizzare la storia su certi binari poi si innescano tutta una serie di reazioni, una serie di deviazioni un'eterogenesi dei fini che è un'altra legge fondamentale della storia ma questo è un altro contributo che dà Fiore a recuperare questo elemento delle personalità nella storia un ultimo punto in aggiunta anche a quanto appunto De Felice sottolineava è l'interrogativo che sul finire del libro Fiore si poneva nel 95 perché ciò che lasciava per il modo in cui abbiamo già visto all'inizio crollava il comunismo realizzato era smarrimento, sbandamento e Fiore si diceva che le democrazie fondamentalmente non potevano, non possono accontentarsi di vivere senza un orizzonte spostato possibilmente più in là, il più in là possibile perché è dentro il sistema democratico la passione per in qualche modo una trasformazione dell'esistente così chiudeva Fiore nel suo libro, proprio nelle ultimissime pagine è un fallimento quello del comunismo che non ha colpito unicamente i comunisti e i comunistizzanti al di là di essi obbliga a ripensare alcune convinzioni vecchie quanto la sinistra occidentale addirittura quanto la democrazia, a cominciare dal famoso senso della storia perché si chiede Fiore se capitalismo, democrazia liberale borghese, economia di mercato era qualcosa di arretrato da superare, superabile e l'Unione Sovietica durata oltre 70 anni era riuscita o dichiarava di essere riuscita in tale intento il suo crollare non tanto per una guerra quanto per una competizione perduta contro chi ancora si intestardiva diciamo così su democrazie liberali, borghese, capitalistiche, di mercato certamente metteva definitivamente in crisi, forse mortalmente, l'idea di progresso e soprattutto di necessità, di carattere teleologico, finalistico, necessitato, obbligato della storia ma soprattutto teneva fermo, o meglio riproduceva, quella antinomia, scriveva Fiore l'idea di un'altra società, scriveva Fiore, è diventata quasi impossibile da pensare d'altronde nel mondo di oggi nessuno avanza alla minima traccia di un nuovo concetto sul tema ormai siamo condannati a vivere nel mondo in cui viviamo ma è una condizione troppo austera e contraria allo spirito delle società moderne per poter durare la democrazia con la sua sola esistenza fabbrica il bisogno di un mondo che venga dopo la borghesia e il capitale in cui per la sua sola esistenza potrebbe sbocciare una vera comunità umana e quindi si chiedeva a Fiore non che l'idea comunista possa rinascere nella forma in cui è morta la rivoluzione proletaria, la scienza marxista-leninista, l'elezione ideologica di un partito di un territorio e di un impero hanno senza dubbio concluso il loro corso con l'Unione Sovietica ma la scomparsa di queste figure familiari al nostro secolo chiude solo un'epoca senza concludere il repertorio della democrazia in altre parole era da pochissimi anni uscito il celebre libro di Francis Fukuyama La fine della storia e l'ultimo uomo nel 92 l'edizione del libro dopo l'articolo dell'89 e anche vuole essere anche molto probabilmente una replica da parte di Fiore che la storia non si ferma perché se l'orizzonte è democratico è la stessa democrazia che anima passioni ideologiche e anche rivoluzionari su questo si aprirebbe un altro ampio dibattito ma è solo per darvi l'idea di come questa pausa con Fiore che debba essere probabilmente da voi proseguita recuperando questo capolavoro storiografico e su di esso meditando nelle prossime settimane, nei prossimi mesi grazie a tutti